Salve, mi dà quei tre branzini, per favore? Certo, allora... Ma cos'è questo odore qui dentro? E ti cresci, mamma mia. Che sa come mai, oh, scendo al fioraio, giustamente, vero? No, però mi scusi, allora mi leva le interiore, le squame e le esche, perché io non le mangio. Però, signora, io le ho comprate interi al mercato, non è che le ho comprate così. Ah, non mi interessa. Sì, vabbè, ho già capito questa madre. Poi? Bene, adesso mi dà quel colico, per favore. Ah, però mi raccomando, gli levi quel tentacolo, anche se abbiamo detti. Ma come? No, mi scusi, lei è l'unico sulla terra che non sa che uno dei tentacoli del polipo è l'organo riproduttivo. Sì, sì, lo sapevo, ma... No, mi scusi, io non mangio i gengili del polipo, ecco. E poi io che cazzo ne sa di volare il coso del polipo, io, ma... Questo? Forse è questo. Non lo so, magari è femmina? Certo, non lo so io. Come è femmina? È un po' duro, forse non riesce... Ecco qua. Bene, quanto parlo? Sono esattamente... No, mi scusi, ho visto il bancone dei surgelati, a questo punto per la degrazione del polipo surgelati, lei non me l'ha detto. Lascio tutto, lascio. Senta, cara, mi frebo la cortesia. Mi metterebbe un cartocciolo interiore che le hai fatto scartare prima? Anche il gingillo del polipo è per il mio gatto, piacere tanto. Sì, vabbè, per il gatto, questa le fa freddere dagli ospiti da mangiato, dico io. Sì, vabbè... Grazie.